Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questa presentazione della Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, STAN, dell'Università di Trieste. STAN è un corso interdipartimentale incardinato nel Dipartimento di Scienze della Vita, con la compartecipazione del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. Io sono il professor Stefano Furlani, geologo e geomorfologo del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e coordinatore attuale del corso di STAN. Sono qui oggi in compagnia della professoressa Roberta Bulla. Ciao Roberta. Buongiorno. Delegata all'Orientamento del DSV, della professoressa Lucia Muggia, rappresentante della Laurea Magistrale in ESCG. Buongiorno Lucia. Buongiorno. Della professoressa Francesca Malfatti, in rappresentanza della Laurea Magistrale in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero. Buongiorno. Ciao Francesca. Ed il professor Carlo Corradini, in rappresentanza della Laurea Magistrale in Geoscienze. Ciao Carlo. Che ci illustreranno anche le possibilità di studio al termine di questa laurea triennale all'interno dell'Università di Trieste. E abbiamo con noi anche gli studenti Luca Bortuzzo. Buongiorno. Ciao Luca. Ludovica Rupolo. Buongiorno. Ciao Ludovica. E Lorenzo Ferdinando Campanè. Buongiorno. Ciao Lorenzo. Con i quali dialogheremo per entrare nelle esperienze di vita vissuta nel corso di Stan. Sono tutti i studenti che attualmente stanno frequentando questo corso. Do ora la parola alla professoressa Bulla. Buongiorno e benvenuti. Io sono la delegata all'orientamento per il Dipartimento di Scienze della Vita. Il Dipartimento di Scienze della Vita è un dipartimento che conta all'incirca 240 persone di cui 53 professori, all'incirca 15 ricercatori a tempo indeterminato e 15 ricercatori a tempo determinato. Gli interessi scientifici del Dipartimento vanno dalle scienze biomediche alle scienze psicologiche e alle scienze ambientali. Pertanto il Dipartimento offre i tre percorsi, per ognuno di questi tre percorsi scientifici, anche tre percorsi formativi in linea con le aree di interesse scientifiche del Dipartimento. Quindi in particolare per l'area della Biologia Naturalistica e Ambientale abbiamo la laurea in Scienze e Tecnologia per l'Ambiente e la Natura e poi le lauree magistrali in Ecologia e Sostenibilità dei Cambiamenti Globali e Scienze per l'Ambiente Marina e Costiero. Ogni percorso formativo si completa con un dottorato e per quanto riguarda le attività di orientamento, tra tutte le attività che vengono svolte, segnalo in particolare i moduli formativi estivi. Sono brevi corsi con lezioni universitarie che sono dedicate agli studenti che hanno finito la quarta superiore e che hanno l'obiettivo di dare ai futuri studenti la possibilità di verificare i loro interessi. Quindi oggi parleremo del corso di laurea in Scienze e Tecnologia per l'Ambiente e la Natura e per questo lascio la parola di nuovo al coordinatore che vi darà dettagli ulteriori, il professor Stefano Furlanis. Grazie professoressa Bulla, ma ora vediamo nello specifico che cos'è il corso di Stan. Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura. Si tratta di un corso che sta nell'area tecnologico-scientifica dell'Ateneo di Trieste, questa bellissima città sul mare e Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura si occupa di ambiente, nelle sue componenti naturali e nelle interazioni che intervengono tra l'uomo e le attività produttive. Le lezioni non sono ovviamente solo in aula, essendo noi parliamo di ambiente e di natura, ma sono anche in laboratorio, in campagna e anche al mare. Quindi, in definitiva, sul territorio. Perché studiare Scienze dell'Ambiente e della Natura a Trieste? Perché i ranking dell'Università di Trieste per i servizi che offriamo per la didattica e per la ricerca sono molto alti, molto molto buoni. Un po' di storia. Il corso nasce nell'anno accademico 2008-2009 dalla fusione di due precedenti corsi di lauree, il corso di Scienze Naturali e il corso di Scienze Ambientali, di cui conserva comunque le specificità attraverso due curricula, uno naturalistico e uno ambientale. A partire dall'anno accademico 2020-2021, è stato attivato un terzo curriculum, per cui attualmente c'è il curriculum ambientale, quello biologico e quello didattico. Il corso di laurea, inoltre, come tutti i corsi gestiti dal Dipartimento di Scienze della Vita, ha un sito web che è accessibile direttamente dalla pagina del Dipartimento. E questo è uno screenshot. Qui trovate tutte le informazioni che vi servono sul nostro corso di laurea, dalla descrizione del corso, agli obiettivi, ai piani di studio, alle modalità in cui iscriversi, agli esami, il calendario delle lezioni, i programmi, anche alle possibilità di studio all'estero, che vengono offerte all'interno del corso, e alle possibilità di tirocinio, che sono sempre molto apprezzate dai nostri studenti. L'obiettivo del corso di Stan è la formazione di laureati con una buona cultura di base sul metodo scientifico, una solida conoscenza dell'ambiente naturale, sia dal punto di vista biotico che abiotico, e ovviamente alle relazioni di questi con l'ambiente. è la base indispensabile per partire e in cui condurre programmi di recupero e riqualificazione di ambienti soggetti ad uno sfruttamento antropico e di degrado ambientale. Questo corso prepara gli studenti a utilizzare le più moderne tecniche di analisi ambientale e individua le condizioni critiche e propone le adeguate tecniche di gestione. Per cui, come dicevo, il corso è strutturato in tre curricula distinti, ma con molti esami comuni. Uno più rivolto alle componenti naturali, uno rivolto all'ambiente antropizzato e alle problematiche che l'interazione tra uomo e ambiente comporta e uno specificamente dedicato alla formazione degli insegnanti delle scuole medie e superiori. Per l'anno accademico 2022-2023, in particolare, è previsto il numero programmato di 100 immatricolazioni e pertanto c'è una prova di selezione per formare una graduatoria di ammissione al corso. 97 studenti sono italiani o parificati, quindi comunitari. Tre posti sono garantiti per studenti non comunitari e prioritariamente uno per studenti cinesi nell'ambito del progetto Marco Polo. Il test di ammissione per accedere a STAN è il test di tipo TOLC-B. Quindi si sostiene il test di ammissione, poi è possibile iscriversi al corso di laurea e quindi immatricolarsi. Il TOLC-B è un test informatizzato dal 2020 svolto o da casa oppure in un'aula virtuale su Zoom oppure svolto su un personal computer messo a disposizione dell'Università di Trieste. Tutte le informazioni vengono ovviamente pubblicate sulla pagina dell'Università di Trieste e sono reperibili anche sul nostro sito web. Ecco, questo è lo screenshot per come accedere all'iscrizione al TOLC. Il piano di studi prevede la possibilità di iscriversi a tre diversi curricula di cui vi parlavo prima con dei corsi che in parte sono comuni tra i tre curricula e in parte sono specifici anche con degli esami a scelta da parte dello studente. L'offerta è piuttosto variegata sia per il curriculum biologico che per quello ambientale che per quello didattico. È possibile poi proseguire gli studi con la laurea magistrale in Ecologia e Sostenibilità dei Cambiamenti Globali Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero e la laurea in Geoscienze. Addirittura dopo la laurea magistrale è possibile proseguire con due dottorati che sono attivati nel nostro Ateneo in particolare Ambiente e Vita e il dottorato in Scienze della Terra Fluido-Dinamica e Matematica Interazioni e Metodiche. Inoltre offriamo anche la possibilità di seguire il Master in Comunicazione della Scienza presso la Sissa di Trieste e il Master di Secondo Livello presso un ITS in Sustainable Blue Economy e attivato nel Dipartimento di Matematica e Geoscienza e Geoscienza, quindi una varietà molto ampia di possibilità dopo la laurea triennale. Gli sbocchi professionali riguardano la ricerca, soprattutto alla fine della laurea magistrale, nelle università, in area di ricerca, all'OGS e nelle riserve marine e nei parchi. enti pubblici e pubblici e pubblico impiego come corpo forestale, agenzie di protezione dell'ambiente, istituti faunistici, direzioni regionali dell'ambiente, servizi di valutazione di impatto ambientale, musei e parchi. La libera professione, in particolare avendo sostenuto l'esame di Stato e con l'iscrizione agli albi professionali, ad esempio per fare progettazione di interventi di ripristino ambientale. Nel settore turistico come guida naturalistica o nelle agenzie turistiche specializzate è possibile lavorare anche con la divulgazione scientifica come consulente presso case editrici e giornalismo scientifico e divulgativo. Insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori. Iscrizione agli albi professionali, in particolare con la laurea triennale in Stan è possibile iscriversi come architetto junior per il settore pianificazione, pure anche come biologo junior. Con la laurea magistrale in ecologia dei cambiamenti globali è possibile iscriversi all'ordine come ecologo, come biologo, con la laurea magistrale in scienza per l'ambiente marino e costiero è possibile accedere all'ordine degli architetti per il settore paesaggistico, all'ordine dei geologi, dei biologi e degli agronomi. Con la laurea magistrale in geoscienze è possibile accedere all'iscrizione dell'ordine dei geologi. Ma ora, nello specifico, vediamo il passo successivo alla laurea triennale e cioè che cosa offre l'Università di Trieste in termini di lauree magistrali per uno studente di Stan. Prego, Lucia, la professoressa Lucia Muggia, ora ci illustrerà la laurea in ESCG. Grazie, ringrazio il professor Furlani per l'introduzione. Il percorso di studio di ecologia e sostenibilità dei cambiamenti globali è una laurea magistrale che nasce proprio in quest'anno accademico 2022-2023. Il coordinatore è il professor Giovanni Baccaro e la sottoscritta, la vice coordinatrice, ve lo espone un po' oggi. Il corso propone di fornire agli studenti degli strumenti conoscitivi per affrontare e risolvere le problematiche che sono correlate ai cambiamenti globali, per valutare le loro implicazioni sociali, economiche e tecnologiche soprattutto. È un corso nuovo, innovativo, che si propone di fornire metodologie per analisi biologiche, fisiologiche, ecologiche e genetiche degli organismi che vanno incontro alle conseguenze dei cambiamenti globali e si propone di fornire una base solida di conoscenze teoriche e pratiche dei processi naturali e soprattutto la capacità dello studente a valutare gli impatti economici e sociali che i cambiamenti globali possono avere. Inoltre l'obiettivo finale, ma sicuramente non meno importante, è quello di formare studenti che sono in grado di proporre soluzioni atte a garantire e promuovere lo sviluppo sostenibile nell'ambito dei cambiamenti sociali. Quindi, diciamo così, il target è quello di formare futuri professionisti che sono in grado proprio di analizzare le problematiche del global change e di gestire, diciamo così, in maniera sostenibile le risorse naturali e i sistemi produttivi in generale. Il percorso di studio prevede delle aree tematiche principali che trattano la biodiversità, il biomonitoraggio e la gestione ambientale, le metodologie per il monitoraggio ambientale e gli impatti dei cambiamenti globali sulla sostenibilità. Il corso è organizzato in blocchi, precisamente in cinque blocchi, il primo blocco prevede dei corsi obbligatori, mentre gli altri quattro blocchi prevedono dei corsi a scelta che si indirizzano più allo studio degli ecosistemi vegetali o degli ecosistemi animali, quindi lo studente ha la possibilità di specializzarsi in diversi ambiti. Inoltre, in questi blocchi troviamo anche corsi che permettono allo studente di apprendere metodologie per identificare ed analizzare i cambiamenti globali, poi un ulteriore aspetto innovativo è la presenza di corsi che formano lo studente ad analizzare politiche ambientali, economiche e sociali. Da ultimo, ma non meno importanti, abbiamo anche corsi opzionali e scuole estive in cui gli studenti possono effettivamente mettere in pratica quello che apprenderanno nelle lezioni frontali. E con questo quindi ci auguriamo effettivamente che i nostri studenti diventano professionisti nella gestione e nella sostenibilità di quelli che saranno poi gli effetti dei cambiamenti globali futuri. Grazie. Grazie Lucia per la presentazione della laurea in ESCG e passiamo ora alla laurea magistrale in Scienze per l'ambiente marino e costiero con la professoressa Francesca Malfatti. Prego Francesca. Grazie professor Furlani, sono Francesca Malfatti, sono docente di microbiologia ambientale a STAN e anche microbiologia marina nella laurea di Scienze per l'ambiente marino e costiero LM75 SAMAC. È difficile scegliere dopo STAN, ma il DSW e l'Università di Trieste vi propongono tre eccellenti scelte che state imparando adesso. Quest'anno il Dipartimento di Scienze della Vita e OGS hanno deciso di lanciare una nuova laurea magistrale. L'OGS è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. ha diverse missioni e si focalizza su aree polari, mari costieri, la comunicazione, i fondali e risorse minerarie. L'OGS ha una storia molto antica, risale al 1753 e ha diverse sedi, come potete vedere, dislocate nel nord, nel centro e nel sud Italia e al momento è il gestore dell'unica nave polare che la Repubblica Italiana ha, la laurea Bassi. Perché vi dovreste iscrivere a SAMAC? Nel 2021 noi, il mondo, la società, ha deciso di dedicare il prossimo decennio agli oceani. Perciò c'è una grande enfasi e grande energia per cercare di capire, studiare, gestire l'oceano. Come vogliamo avere l'oceano? Quali sono, come vorremmo avere i nostri mari? Puliti, sani, che siano predecibili, sicuri, che ci diano delle risorse sostenibili nel tempo, trasparenti e che siano sempre fonte di ispirazione. Per capire tutti questi aspetti, Samac si propone agli studenti delle future generazioni, alle donne e agli uomini, come una rete multidisciplinare che mira a rispondere alle domande che sono importanti, che noi pensiamo siano importanti, per la società. Perciò capire quali sono i forzanti chimici e fisici che mantengono l'ecosistema funzionante, capire le reti trofiche e come noi esseri umani possiamo o non possiamo continuare a prelevare, capire come gestire le aree marine protette, come proteggere il territorio, qual è la pianificazione della società umana lungo le coste e come tutte le nostre attività umane hanno un'influenza sulla salute e sul funzionamento degli ecosistemi marini e costieri. A chi è rivolta questa laurea? Noi ci siamo ispirati a voi pensando a una persona che vuole sviluppare una profonda conoscenza degli aspetti chimici, fisici, biologici e geologici del mare-oceano, a chi vuole capire la storia, il presente e poter anche vedere e prevedere il futuro dell'ecosistema oceano-mare, a chi vuole integrare al meglio delle nostre conoscenze e possibilità l'economia, il benessere condiviso in una società diversa e rispettosa degli altri, con una pianificazione dell'influenza umana sulle coste, a chi riesce a capire che è importante prendere sempre nell'equazione, considerare nell'equazione l'uso sostenibile delle risorse per promuovere la loro sviluppo e crescita per le generazioni future e alle persone che dovranno aiutarci a fornire dei piani di mitigazione ai cambiamenti climatici che sono in essere. Per accedere a questo corso di laurea questi sono dei dettagli, avete bisogno di una laurea o di un diploma, diploma triennale, che appartenga alle classi L13 o L32, perciò scienze biologiche o scienze tecnologie per l'ambiente natura, STAN, o a 10 crediti in discipline biologiche con 12 crediti in discipline geologiche e chimiche. SUMAC è diviso in due anni dove fondamentalmente ci sono delle lezioni pratiche e delle lezioni teoriche, perciò la teoria sarà poi espletata nelle summer school, nei laboratori didattici geologici, chimici, biologici, dove toccherete con mano e perciò avrete i piedi bagnati finalmente nella gestione, nel capire come si misura, come si struttura un piano di monitoraggio o quali sono i problemi che una persona deve affrontare quando inizia a pensare a ricostruire una riserva marina protetta. Il corso di SUMAC ovviamente prevede un tirocinio di 600 ore che potrà essere svolto localmente o grazie allo strumento Erasmus Plus, perciò all'estero. I portatori di interessi della regione Friuli-Venezia-Giulia e del Veneto saranno contenti di accogliervi e perciò qui stiamo parlando di autorità portuale, del centro che studia la pesca, delle agenzie regionali per la protezione ambientale e delle aree marine protette. Come figure professionali noi pensiamo che riusciamo a formare un valutatore della qualità ambientale, un divulgatore scientifico, un ricercatore, un insegnante e anche una guida ambientale. Perciò c'è tanta diversità che SUMAC vi può offrire. E con questo vi lascio i QR code per trovare più informazioni sul sito di Unitrieste, sul sito di OGS, il coordinatore del corso, il professor Alberto Palavicini, il vice coordinatore, il professor Sanislao Bevilacqua. Grazie. Grazie Francesca per la tua presentazione e passiamo ora al professor Carlo Corradini, Carlo che ci presenterà la laurea magistrale in geoscienze. Grazie professor Furlani della presentazione. Io sono coordinatore del corso di laurea in geoscienze, che è un corso di laurea magistrale della classe delle scienze e tecnologie geologiche e la classe LM74 stando con la termine ministeriale. Sono qui perché uno dei possibili sviluppi di un corso di laurea di Stan può anche essere rivolto per l'interesse di qualche studente verso discipline un pochettino più geologiche. Nel corso di laurea di Stan ci sono svariati crediti di discipline geologiche e di conseguenza un laureato Stan può accedere senza nessun debito formativo alla laurea magistrale in geoscienze. La laurea magistrale in geoscienze è organizzata presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste. La sede è quella del campus di San Giovanni ed è organizzata in tre curricula che riguardano tre settori diversi tra di loro ma anche strettamente integrati. Sono insegnamenti comuni e altri sono più focalizzati sui curricula. Un curriculum è di esplorazione geologica quindi si va a studiare quella che è la terra e il sottosuolo e le interazioni anche superficie sottosuolo diciamo per andare a interpretare la geologia gli sviluppi eccetera della situazione praticamente geologica. Un altro curriculum è geomateriali quindi è praticamente rivolto sulla parte mineralogico e petrografica un terzo curriculum che forse è quello che potrebbe interessare di più un laureato Stan è quello di geologia applicata e ambientale con particolari riguardi alle dinamiche costiere agli aspetti geologico geofologici della costa e delle implicazioni che abbiamo sul territorio attuale. con questo in estrema sintesi quello che è la laurea magistrale in geoscienze. grazie Ok, ora passiamo al nucleo più importante di questo corso ma anche forse di tutta l'università cioè gli studenti e a questi rivolgeremo alcune domande che potrebbero essere utili a chi volesse iscriversi al corso Stan la prima domanda forse la più naturale potrebbe essere perché hai scelto proprio questo corso? Salve a tutti sono Ludovica studentessa di Stan ho appena terminato il primo anno ottobre inizierò il secondo e ho scelto Stan perché da sempre sono attratta dallo studio delle materie scientifiche quali matematica fisica e chimica ma soprattutto dalle scienze naturali quindi biologia e scienze della terra ho scelto Stan perché appunto sono interessata nel comprendere nello specifico i fenomeni che accadono nell'ambiente che ci circonda e tra le nella trinale di Stan si possono scegliere tra tre curriculum e io ho scelto quello ambientale perché sono molto più interessata nella parte di chimica e geologia Ciao a tutti io sono Luca sono uno studente del primo anno di Stan e ho deciso di indirizzare la mia scelta su questo tipo di corso io ho scelto l'ambito biologico perché ha come obiettivo lo studio delle relazioni tra l'ambiente e l'uomo e si prefissa come obiettivo quello di promuovere i processi orientati allo sviluppo sostenibile ambito in cui sono particolarmente interessato buongiorno io sono Lorenzo ho scelto ho finito il secondo anno di Stan adesso inizierò il terzo a ottobre e ho scelto questo corso perché fin da piccolo mi piacevano la natura gli animali e le piante soprattutto e poi al liceo ho frequentato un indirizzo scientifico che aveva anche delle particolarità delle specifiche sull'ambiente quindi diciamo che è un po' una strada che ho sempre seguito dopo la volevo mantenere e quindi ho pensato che il corso di Stan potesse offrire la multidisciplinarità che desideravo io ho scelto il terzo curriculum il curriculum didattico proprio perché tra i due era quello che incorporava di più tutti e due gli ambiti quello un pochino più ambientale e quello un pochino più biologico e sono molto contento della mia scelta e adesso inizierò il terzo anno non vedo l'ora insomma ecco mi sembra di capire che le motivazioni che vi hanno spinto a decidere di iscrivervi a Stan sono sono varie ma comunque sia tutte rientrano nelle nostre tematiche allora la domanda che vi pongo è quanto è utile per voi frequentare un corso multidisciplinare come questo che ripropone delle discipline così diverse per certi versi come la biologia la geologia e la chimica Lorenzo tu forse che fai il segui il curriculum didattico potresti dirci qualche cosa in questo senso grazie penso che la multidisciplinarietà sia una cosa importantissima soprattutto nel mondo che si sta andando a delineare adesso e soprattutto in un ambiente in una materia come le scienze naturali che sono molto connesse tra di loro la geologia influenza la botanica che influenza la zoologia e penso che oltre ad una scelta intelligente sia anche una scelta adatta a molti ragazzi che non si sentono ancora di dedicare tutto se stessi tutti loro stessi a una singola ad un singolo argomento di nicchia ecco quindi credo che sia una scelta oltre che tattica anche adatta a un un ampio gruppo di persone ok grazie Lorenzo ma Ludovica visto che tu sei l'ultima che ha lasciato le superiori sei la più giovane la mia domanda è come quanto è diverso lo studio universitario rispetto a quello delle scuole superiori lo studio all'università è molto diverso rispetto alle superiori e per certi versi è più facile l'università rispetto alle superiori se si dispone di un metodo di studio efficace infatti all'università a Stan in particolare la frequenza delle lezioni non è sempre obbligatoria a parte in alcuni laboratori però appunto si può scegliere di non frequentare le lezioni prediligere per esempio lo studio individuale dalle dispense fornite dai professori oppure dalle slide o dal libro di testo comunque bisogna essere organizzati grazie Ludovica per questa tua condivisione a questo punto la domanda spontanea è ma quanto è utile seguire i corsi e i laboratori con questa domanda Luca allora per quanto mi riguarda personalmente consiglio a tutti quanti di seguire i corsi soprattutto in presenza adesso che dopo il covid abbiamo di nuovo la possibilità mentre per quanto riguarda i laboratori devo dire che sono una caratteristica fondamentale del corso di studi in Stan e non vanno considerati come un'attività scissa dalle lezioni frontali di teoria per cui consiglio tutti quanti vivamente di prendere parte sia alle lezioni teoriche in presenza che ai laboratori grazie di aver condiviso queste queste idee sul corso dalle vostre esperienze vissute e a questo punto la domanda che porgerei a tutti e tre quali sono le vostre aspettative rispetto al corso per il vostro futuro sappiamo che già dentro l'università di Trieste ci sono molte offerte di corsi di lauree magistrali e quindi la mia domanda è appunto che cosa pensate per il vostro futuro per il mio futuro io penso che farò la magistrale probabilmente sempre qui a Trieste perché mi sono trovato molto bene nell'Ateneo e nella città e probabilmente sceglierò una delle magistrali che verranno presentate in questo web seminar conto di riuscire a continuare il percorso che ho fatto fino adesso e spero di poterlo continuare anche più avanti trovando un lavoro e un'occupazione della quale io posso essere soddisfatto le mie aspettative rispetto al corso per il mio futuro parlando della triennale spero di continuare a svolgere le attività di laboratorio e le attività pratiche per mettermi in gioco e toccare con mano ciò che si studia perché la scienza è prima di tutto sperimentare e mettersi in discussione per la magistrale invece anche io mi sono trovata molto bene a Trieste e terrò certamente in considerazione le magistrali che sono state illustrate per il corso di Stan tenendo anche in considerazione i miei interessi nei confronti della chimica e della geologia le mie aspettative per il futuro sono quelle di ampliare le conoscenze già acquisite in questo corso di studi e di affrontare anche attraverso la magistrale le tematiche del rapporto uomo-ambiente che ormai sono sempre più argomento centrale nella nostra società e per il nostro futuro bene a questo punto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che hanno voluto mostrare che cose facciamo quali sono le attività e quali sono le prospettive del corso di Stan la professoressa Roberta Bulla la professoressa Lucia Muggia la professoressa Francesca Malfatti il professor Corradini e gli studenti Luca Bortuzzo Ludovica Ruppolo e Lorenzo Ferdinando Campanè con l'augurio di essere stati utili per voi che volete scegliere potrete scegliere questo corso di laurea nel Ateneo di Trieste grazie a tutti Grazie a tutti